Il governo Meloni e le sue riforme, quattro importanti riforme che stanno prendendo vita? È la grande scommessa fatta con gli italiani che hanno dato fiducia a Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, alla coalizione centrodestra, affidando la guida del governo e quindi la risposta in questi quasi due anni di governo è quella di aver messo in campo una serie di iniziative talmente importanti che cambieranno il volto dell'Italia. Il dovere di realizzare un cambiamento forte sotto il profilo economico, finanziario, sociale è quello che Giorgia Meloni, che viaggia a velocità incredibile, facendo viaggiare anche il Parlamento a questa velocità. Quindi riforme che sono in campo, riforme che cambieranno il volto dell'Italia, la riforma della giustizia approvata recentemente, ci avviamo una riforma costituzionale di grande rilievo per dare la possibilità agli italiani di scegliere da chi essere governato e scegliersi la persona che dovrà guidare il governo, riforma sul premierato. E accanto a questo tutta una serie di riforme come aver ad esempio garantito agli italiani in campagna elettorale che avremmo tolto il reddito di cittadinanza, lo abbiamo fatto, lo abbiamo trasformato per sostenere chi realmente vuole lavorare. Ecco, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, andiamo avanti con grande forza, con grande determinazione e ritengo con il gradimento degli italiani. Grazie a tutti.